Il telefono ha avuto. Ciao Sam. Per bloccare le comunicazioni tra i mercenari devi far saltare l'antenna satellitare. Passa nel bunker sotterraneo per raggiungere i montanti. Non stare a usare i lanciamissili. Quella è roba tosta. L'unica è piazzare del C4 sui montanti. E tieni da parte un po' di C4 per il portone blindato che blocca l'ingresso del bunker. Questa è un'area riservata. Io non dovrei essere qui, quindi non credo che l'uniforme aiuterà. Questa è un'area riservata. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 . Sì. 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 . Sì. . Sì. Sì. . Sì. . Sì. Sì. . . Sì. 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 Vali! Fuoco a volontà! Prendiamolo! Cazzarola! Vai cagare! Avanzi questa e piccateva nel culo! Però non posso tornare alla pista con te dentro! Devi lanciarti dall'aereo! Posso farcela! Ci siamo! Salta! Salta! Salta!